Ben ritrovati cari amici condomini a questo nuovo appuntamento di pausa condominio, una pausa nella nostra giornata per parlare sempre di condominio. Oggi parleremo con un coach, un formatore di amministratori di condominio, è in collegamento con noi Pierluigi Iafelice, benvenuto Pierluigi. Grazie, benvenuti anche a voi. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ecco, parliamo della formazione degli amministratori di condominio, ma non quella ritenuta strettamente tecnica, quella che abilita gli amministratori all'esercizio della professione. Parliamo invece di un altro tipo di formazione, quella possiamo definire la più psicologica, propedeutica, l'approccio con i propri condomini. Quali sono i più importanti insegnamenti che possiamo girare agli amministratori di condominio professionisti? Allora, l'approccio che io cerco di trasmettere a questo tipo di professionista è che fondamentalmente loro e gli amministratori di condominio sono delle persone competenti che interagiscono con delle persone esigenti, cioè il condomino pretende che l'amministratore gli gestisca il condominio, gli risolva i problemi, l'amministratore ha le competenze per riuscire a farlo. quindi la dinamica è tra persone. Sostenere le qualità umane più che altro, oltre che quelle tecniche? Certo, le competenze tecniche sono fondamentali, se no uno non riuscirebbe a fare l'amministratore bene, non sarebbe un professionista. Se riesce a comprendere la persona che ha davanti e farla sentire compresa, perché se lui comprende ma non fa sentire compresa l'altra persona, non c'è dialogo, è un po' muro contro muro. Ecco, ma la difficoltà nasce dalla pressione che i condomini fanno sugli amministratori o magari da una mancanza di sicurezza degli stessi amministratori? Ecco, abbiamo toccato proprio il punto, se vogliamo, da tenere sempre presente che quando non si è sicuri delle proprie competenze, si rischia di irrigidirsi, perché si vuole dimostrare il proprio valore, il proprio saper fare e non si ascolta più invece cosa vuole la persona che abbiamo di fronte, la persona che stiamo e che dovremmo soddisfare. Quindi quello che io cerco di fare, e sono più di vent'anni che lo faccio con gli amministratori, è di aiutare l'amministratore, chiamiamolo Andrea. Quindi Andrea si sveglia la mattina ed è un essere umano che si sveglia. Poi lui si chiama Bianchi, Bianchi è l'amministratore che è stato scelto dai condomini. Quindi Andrea Bianchi è l'amministratore scelto dai condomini. Ma alla mattina si sveglia Andrea, le competenze, le professionalità sono di Bianchi. Se Andrea non è in equilibrio, se Andrea ha paura di non essere stimato, se Andrea crede di essere impreparato, se Andrea si sente aggredito, Bianchi è l'amministratore, funziona molto meno di quando invece Andrea è tranquillo, sa che viene apprezzato per le sue competenze, sa che viene apprezzato per le sue qualità. Però la base è sempre l'essere umano. Certo, quindi l'amministratore dovrebbe vivere in una simbiosi tra queste due figure, quella personale, umana e quella professionale, per trovare l'anello di congiunzione per meglio esercitare la professione. Corretto, corretto. Questa simbiosi, se ci pensiamo, c'è sempre, perché non è che uno va in giro solo come essere umano, va in giro solo come professionista, sono inscindibili le due cose. Andrea Bianchi esce di casa come essere umano, ma Bianchi ha tutte le competenze, non è che se le è dimenticate in ufficio, in studio e quando arriva invece poi a fare l'assemblea non le ha più. Quindi c'è sempre questo binomio, ma deve essere un binomio che è in sinergia, cioè le competenze vengono veicolate dall'essere umano. Se l'essere umano è nervoso, se l'essere umano non è, diciamo, tranquillo, può essere irrascibile, può dare la risposta sbagliata, può inalberarsi, può chiudersi, quindi non capire cosa gli stanno chiedendo, cosa stanno pretendendo da lui. Ecco, quello magari è il fattore predominante quando uno non si sente all'altezza di gestire un ruolo. Magari pensiamo a quei condomini più grandi, dove abbiamo un gran numero di famiglie che coabitano insieme e quindi danno maggiori problemi all'amministratore. Ecco, ma dal punto di vista dei condomini, che cosa possiamo suggerire per lavorare meglio con il proprio amministratore? Ecco, collaborare con il proprio amministratore. Allora, quando lavoro dall'altra parte, quindi quando lavoro con le persone che hanno casa, quindi che sono appunto condomini, cerco di aiutarli a capire che l'amministratore che magari loro vogliono disdettare perché gli è antipatico, perché non sta facendo quello che c'è da fare, in realtà è lo stesso professionista che loro hanno scelto magari al posto di un altro amministratore. Non stanno disdettando l'incompetente perché qualcuno dice è un incompetente, abbiamo scelto un incompetente, è un confusionario, è inadempiente, non rispetta i tempi. Non è vero, in realtà hanno messo sotto pressione l'essere umano, quindi la stessa persona che professionalmente gli era andata bene, adesso professionalmente non gli va più bene perché è sotto tensione. È una tensione che però nasce da una loro insoddisfazione che guardano dal punto di vista fisico l'amministratore. Allora l'ideale sarebbe, ci arriveremo, fra 40 anni gli amministratori saranno i famosi automi, quindi non avranno più emozioni e quindi non deluderanno più i condomini. In questo momento gli esseri umani possono avere delle emozioni e possono deludere il condomino, dicono ma cosa fa? Balbetta? Cosa fa? Non mi ma sono tutte reazioni umane. Ecco ma anche perché, come hai detto tu giustamente, la maggior parte delle motivazioni che nascono per chiedere una disdetta, una revoca dell'incarico di amministratore nasce da motivi quasi, possiamo dire, personali più che motivi professionali. Cioè si guarda più all'aspetto umano che non magari a quello professionale. Ecco forse questo è il suggerimento che possiamo dare agli amici condomini, di non soffermarsi solo su quell'aspetto ma di valutare la persona nel suo insieme. Esatto, esatto. Ora pensiamo anche ai condomini che vanno in assemblea. Spesso si arriva in assemblea sempre più nervosi, sempre più ansiosi perché si vogliono risolvere i problemi ma non si sa come risolverli. Ecco anche a loro possiamo dare un consiglio per meglio approcciarsi anche alle assemblee di condominio. Allora il consiglio, se vogliamo più pratico, è considerare l'assemblea non un'arena dove si deve combattere, ma un posto dove si deve provare a fare una sorta di mediazione. come? Quindi io c'ho il problema che non so come fare perché mi parcheggiano sempre la macchina male. Se aggredisco quello che mi parcheggia la macchina male e quindi non mi fa passare, cosa ottengo? Una lite. E il povero amministratore non sa che cosa fare perché se non c'è un regolamento di condominio che vieta il parcheggio delle macchine all'interno chi sta parcheggiando ha ragione a parcheggiare, chi si sta arrabbiando però ha ragione ad arrabbiarsi perché non riesce a passare con la sua macchina perché l'altro parcheggia male. Quindi l'amministratore in quel caso è soltanto un mediatore tra due persone che si devono accordare. Quindi qualcuno deve parcheggiare meglio e qualcuno deve avere la pazienza di aspettare che questa persona impari a parcheggiare meglio. Non si risolve quella sera in assemblea perché l'amministratore cosa può fare? Certo ma a volte nei condomini nascono anche delle dinamiche di preferenza per alcuni condomini da parte degli amministratori. A volte possono aiutarlo a mantenere quelle maggioranze di cui si ha bisogno in determinate delibere. A volte sono sfavorevoli. Ma sul discorso preferenza possiamo dire qualcosa agli amministratori di condominio? Allora la preferenza in genere di nuovo è data dal fatto che l'amministratore si trova più in sintonia con alcuni condomini che con altri. La sintonia li porta a una sinergia e quindi apparentemente per l'amministratore è comodo lavorare con quelle persone che fanno squadra con lui e gli consentono appunto le famose maggioranze. Se tutto va bene, cioè se tutti quelli che fanno squadra con lui sono presenti in assemblea e quindi si riesce ad approvare a maggioranza la cosa ha funzionato, ma mettere da parte gli altri perché non si riesce a creare la stessa sinergia è un po' un'arma a doppio taglio. Quindi per l'amministratore dovrebbe essersi diciamo un chiedersi ma perché io con alcune persone ho stabilito questo bel rapporto e con altre non ci sto riuscendo? Cosa manca? Non è la stima, non è che non mi stimino gli altri, non riesco io a instaurare un dialogo con queste persone, mentre con queste altre ci sono riuscito. Quindi è di nuovo l'essere umano, cioè l'amministratore essere umano si deve chiedere io come faccio per essere in sintonia, in sinergia con l'essere umano condomino, quelli con cui attualmente non sono in sinergia. È una questione di sensibilità. Certo, l'amministratore deve avere questa sensibilità giusta, anche questa pazienza direi io nel saper ascoltare tutte le istanze da parte dei condomini, anche quelle più pressanti, perché il problema è che molte volte i problemi non si risolvono nel condominio e si ritorna con una pressione sull'amministratore scaricando magari sull'amministratore la colpa o la responsabilità di non averli risolti. Ecco come può tirarsi fuori un amministratore di condominio da queste situazioni. Allora la cosa ideale sarebbe ricordare, molti amministratori neanche lo sanno, che noi in qualunque momento della giornata usiamo due parti del nostro cervello, la parte razionale e la parte emotiva. La parte razionale è quella che usa tutte le competenze dell'amministratore, ma se la parte emotiva da un certo punto di vista fa da interferenza, la parte razionale funziona male e quindi l'amministratore può prendere cantonate, può inalberarsi, può prendere brutte direzioni anche in assemblea, quindi da un certo punto di vista farsi del male da solo. Avere presente che ci sono queste due parti e la parte razionale è quella che ha il famoso QE, cioè il quoziente di intelligenza, la parte emotiva ha il QE, quoziente emotivo. Quindi se il quoziente emotivo rende poco valido il quoziente intellettivo, effettivo, quell'amministratore perde colpi, ma li perde veramente, se li perde indiretti in assemblea perde credibilità, rischia la reeduca all'assemblea successiva, non a quella volta lì, perché magari quella volta decidono solo che si devono liberare di quell'amministratore. Allora per capire bene questo concetto di parte emotiva e parte razionale, sono due parti del nostro cervello che funzionano sempre. Io faccio sempre un esempio, è capitato a tutti di uscire di casa e prima di uscire di casa sentire che non si doveva chiudere la porta, cioè devo, ho dimenticato qualcosa, devo, cosa ho dimenticato? Uno fa una sorta di veloce checklist e dice no, non ho dimenticato niente, posso chiudere la porta. Nel momento in cui chiude la porta, quindi troppo tardi perché ha chiuso la porta, mette le mani in tasca e si rende conto che non ha le chiavi, ha lasciato le chiavi dentro, si è chiuso fuori. Chi è che stava suggerendo di non chiudere la porta? È la parte emotiva, che la parte emotiva non va per schemi. Chi è che invece non ha dato retta? La parte razionale, dice se devo uscire di casa devo chiudere la porta, se no lascio la porta aperta. Quindi bisognerebbe addestrarsi un pochino, essere disponibili a rendersi conto che la nostra parte emotiva ci aiuta sempre, ma la nostra parte razionale non ascolta il più delle volte la parte emotiva, perché ci ha litigato troppe volte, magari a scuola quando durante un'interrogazione uno si è emozionato e non si ricordava niente, in un contesto anche un'assemblea dove tanta gente, avere davanti 60-100 persone, mette in una situazione di tensione tale per cui l'emotività non lascia spazio alla razionalità. Quindi magari un consiglio... Uno si deve rendere prima, non può arrivare in assemblea a fare queste cose. Ecco, un consiglio che possiamo dare a tutti gli amministratori di condominio è quello di cercare di mettere a proprio agio tutti i condomini durante l'assemblea affinché si possano affrontare le questioni nella maniera più serena possibile, ovviamente, ove fosse possibile. Noi ti ringraziamo Pierluigi perché ci hai dato degli importanti consigli che giriamo ai nostri amici amministratori di condominio ma anche condomini. Noi cerchiamo di dare un'informazione generale a tutti coloro che vivono e lavorano con il mondo del condominio. Ti ringraziamo e speriamo di rivederti in una prossima puntata di Pausa Condominio. Molto bene, arrivederci. Grazie, grazie Pierluigi Iafelice, salutiamolo in collegamento con noi per Pausa Condominio. Ovviamente vi ricordo a seguirci su Delta TV, canale 83 del Digitale Terrestre, il lunedì alle ore 14.30 e alle ore 22, chiaramente tutti i giorni della settimana. Se avete delle domande da farci potete scrivere al nostro indirizzo e-mail che leggete in sovraimpressione redazione chiocciolaogicondominio.blog o potete mandare un messaggio via WhatsApp al numero 333-4133-289 e soprattutto approfitto per augurare a tutti buon condominio. Grazie a tutti.